Valuta attentamente tutte le offerte da Gio con Dieresi N o con Dieresi L e Isleri, insieme ai suoi dirigenti, madre e padre. Nella scelta di un progetto, sia il personaggio che interpreterai nella serie, sia il soggetto e il linguaggio della serie sono molto efficaci nel processo decisionale. Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Erken Cikusu è che mi fido della sua sceneggiatura e del team con cui lavorerò. Per 5 progetti, appaio sempre davanti al pubblico con un'immagine e un carattere completamente diversi. Sono felice che siano stati tutti amati. Voglio anche fare film. In effetti, ci sono molte offerte sia nazionali che estere. Ma hai bisogno di un blocco di tempo per fare un film. Dato che da 4 anni non riuscivo a trovare un gap del genere, per ora non possiamo valutare le offerte. Ma voglio essere anche sul grande schermo. Dato che da 4 anni non riuscivo a trovare le offerte.